Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Cyberpunk, il Jumpstart Kit della Talsorian Games in collaborazione con CD Project Red. Gioco che ricordo nel corso del 2020 verrà portato il Jumpstart Kit, che non è la versione finale, assolutamente, è una specie di demo, però che vi consente già di giocarci. Verrà portato in Italia dalla Need Games, che colgo l'occasione ovviamente per salutare e ringraziare ancora una volta. Ovviamente ringrazio di cuore la Talsorian Games per avermene inviato una copia dall'estero, grazie di cuore ragazzi è un onore collaborare con voi, in una delle ambientazioni secondo me più spettacolari e che veramente mi ha intrippato da morire, diciamo dall'età che andava dai 18 ai 24-25 anni, quando ci ho giocato veramente tanto col mio ex gruppo di giochi di ruolo. Ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Cyberpunk, in questa nuova versione Cyberpunk Red, come vedete sulla scatola, è un nuovo gioco perché le meccaniche sono le stesse di quello vecchio a cui abbiamo abituato e che abbiamo giocato tantissimo, lo ricordate, e che si rifà a opere letterarie immense come Cacciatore di Androidi o anche Neuromante, quindi opere, o Mona Lisa Cyberpunk addirittura, comunque opere Cyberpunk immense e a film spettacolari che solamente a nominarlo mi c'è una pelle d'oca come Blade Runner e anche l'ultimo Blade Runner, il continuo che a me non è dispiaciuto per niente, detto proprio sinceramente. Comunque, in questa nuova versione Cyberpunk Red muta un po' la sua ambientazione, muta un po' la sua ambientazione perché si discosta molto, secondo me non abbastanza, come ho sentito dire in varie recensioni e altre, ma poi ovviamente ve la documenterò durante il corso di video, si discosta molto dalla sua prima edizione, o per meglio dire dalla sua prima ambientazione, perché questa volta la Talsorian, appunto insieme alla CD Projekt Red, che lo sapete, stanno per far uscire il videogioco, che è stato rimandato un paio di volte ora col problema coronavirus, giustamente anche. I programmatori dovranno stare a casa, l'hanno slittata ancora di un po' di tempo, però è addirittura d'arrivo, io penso, entro a fine 2020, e se ne stanno occupando loro di fare il videogioco e vediamo una Night City, che è la città d'ambientazione di questo gioco, prettamente differente a quello che ci saremmo aspettati, addirittura quando fecero la domanda alla CD Projekt Red, che gliel'avrei fatto anch'io, ma sarà possibile guidare, pilotare macchine volanti? E loro dissero, no, ci saranno soltanto veicoli terreni e forse in futuro vedremo di mettere qualcosa, ma la risposta è più no che sì, almeno quasi al 100%, perché in questa nuova ambientazione i veicoli volanti ci sono ancora, come abbiamo visto in Blade Runner, c'era la polizia, cose del genere, ma sono più o roba per veramente ricchi, ricchi sfondati, o se no per le forze dell'ordine, come ad esempio la polizia, il Trauma Team e altre forze corporative del genere. Quindi dimenticatevi in un gioco del genere di avere la classica macchina tipo Deckard, a parte che è quella della polizia, di Blade Runner, che vola fra i palazzi, fra i grattacieli, dove piove sempre, sempre notte, su Night City, perché non è così. Questa nuova ambientazione inizia con la storia, ora ovviamente ve ne parlo un pochino, e poi vi faccio l'unboxing, anche perché in questa scatola del Jump Start Kit c'è un pochino di cose da mostrare, a differenza di altri giochi di ruolo, dove ad esempio dentro c'è soltanto il manuale. L'ambientazione cambia prettamente perché arrivati nell'anno 2020, quindi è proprio ambientato nell'anno nostro, mettiamola così, la storia ci narra che nella città di Night City, fondata dal presidente Night, quindi questo riprende la vecchia ambientazione tranquillamente, e Night City è una città fittizia nella costa degli Stati Uniti che prende, diciamo, la California. Quindi loro dicano all'inizio fra Los Angeles e San Francisco. In questa città che sta nel mezzo, a fine della famosa, anche lì, Route 66, ci racconta di questo presidente Night che ha voluto fondare una città molto futuristica, una città basata completamente sulla tecnologia, una città basata sul mercato fiorente, ovviamente, sempre Florida, delle armi, e comunque una città dove chiunque avesse possibilità. Una città che doveva diventare una specie di baluardo dell'umanità. La città più famosa, non solo degli Stati Uniti, perché poi era Night City, il nuovo presidente dice che questa città non fa parte degli Stati Uniti, ma comunque ne fa parte, e diventasse un po' l'araldo portatore di luce di tutto il mondo. Come dire, qual è la città che ti viene in mente pensando al pianeta Terra? Night City. Però, appunto, nell'anno 2020 c'è stato un attentato terroristico immenso, dove le due corporazioni, se vi ricordate la vecchia ambientazione, erano la Militech e la Rasaka. La Militech, come produttori di armi, anche la Rasaka, la Militech era americana, quindi ditta prettamente americana, e la Rasaka invece era giapponese. Siamo arrivati alla quarta guerra di corporazioni, perché ce ne sono state altre, ma più piccole, e in questa quarta guerra, praticamente, la Militech, col favore e il supporto di questo nuovo presidente eletto, che è una donna, ora non mi ricordo come si chiama, ma un nuovo presidente americano degli Stati Uniti, ha favorito, ovviamente, le produzioni di armi di massa in casa, favorendo la Militech, e per quanto sembra non ci sia il suo zampino, a parte un zampino puramente, prettamente politico, c'è stata questa quarta guerra di fazione. Si sono visti cararmati, si sono viste truppe per strada che si sparavano, e hanno coinvolto tutta quanta la costa e anche e soprattutto la città, guerra che è sfociata, ovviamente, anche fuori dal Night City. E durante una notte è esplosa una testata termonucleare, qui ci fa l'esempio di un potenziale del 25-30% rispetto alla bomba atomica di Hiroshima, però immaginatevi una città come Night City, distrugge tutto, soprattutto costruita a ridosso di una costa e quindi a non troppo alta rispetto al livello del mare, è esplosa questa testata atomica nel palazzo dell'Arasaka, radendolo completamente al suolo, che il palazzo dell'Arasaka era centro città, ha fatto un casino, ha ucciso milioni di persone, e ha distrutto quasi completamente la città di Night City. Fate conto, se la città di Night City fosse una torta, la più grande parte centrale è praticamente evaporata. E esplodendo, ovviamente, ha ammazzato tante persone, ha distrutto sia oppressi che oppressori, ovviamente i due eserciti sono stati, alle belle e meglio, anche lì quasi completamente rasi al suolo, e esplodendo queste due torri gemelle, che anche lì si fanno varie raffigurazioni su una parte di storia molto brutta dell'America, venendo giù e l'esplosione termonucleare ha praticamente squassato talmente tanto la terra che quella zona lì, completamente al centro città, si è inondato, si è allagata, perché ve l'ho detto, non è costruita tanto sopra al livello del mare, quindi immaginatevi che viene tutto quanto distrutto e scavato per centinaia di metri sotto terra, ovviamente l'acqua e il mare si è ripreso i suoi spazi. E tutt'oggi, andando avanti un po' negli anni, quella zona della città di Night City rimane altamente radiattiva, ma soprattutto quella zona lì di Night City è anche completamente allagata e distrutta, quindi l'ambientazione cambia prettamente perché non è più il cyberpunk che tutti conosciamo, o per meglio dire, lo è ancora, ma a questo punto è un pochino più portato verso il post-apocalittico. Infatti, dimenticatevi assolutamente di vedere la rasaca in città, c'è soltanto la milite ormai, dimenticatevi di vedere soprattutto una polizia governativa che controlla completamente la città, ma la città è divisa in distretti, governate a loro volta da minicorporazioni o bande, e ciascun distretto ha la sua polizia, che tra l'altro è una specie di polizia più privatizzata a questo punto, al servizio delle aziende o anche di chi se lo può permettere. Dimenticatevi negozi, insegne che vi vendevano armi, ma ora ci sono dei distributori automatici per strada che vendono generi alimentari del cavolo, cibo fresco sono soltanto ricchi, quindi roba agliofilizzata, roba confezionata, a lunga conservazione e cose del genere. E poi, soprattutto, questi stessi macchinari che trovate nella strada e ci mettete i crediti dentro, il chip, vi vendono direttamente anche le armi, armi da fuoco che si trovano in piccoli calibri, 9 mm e cose del genere, armi più grosse non sono assolutamente dopo la guerra che ci è stata condivise con il popolo, insomma, che ne potrebbe usufruire nella maniera peggiore. C'è sempre il trauma team, trauma team che se non è l'assicurazione sanitaria come in America ti lascia morire, quello è rimasto, non esiste più. Questa forse è la cosa che mi ha toccato di più e ve lo dirò appunto nella valutazione finale, non esiste più il cyberspazio. Dopo la quarta guerra di corporazioni, il cyberspazio, il net, è stato completamente disattivato e spento e ora ogni città, di cui appunto Night City è il capostipite, per farvi un esempio molto più concreto, ci sono delle linee LAN, inter-NOS, chiuse all'interno della città. Quindi tutta la connessione che ora è gratuita, soprattutto è open source, un po' come Unity, per farvi un esempio, viene condivisa nella città, ma non può uscire dalla città. Quindi tutto quello che potete fare, ovviamente arrivano anche notizie dal resto del mondo, ci sono i giornali, enti televisivi, però è un'ambientazione molto più chiusa, chiusa, ricorda un po' forse quella di Viper Vendetta, dove anche lo stesso governo americano cerca di tenere all'oscuro quello che succede in Africa, quello che succede in Europa, quello che succede in Russia, in Asia e in tutte le altre parti del mondo. Quindi comunque la visione era chiusa agli Stati Uniti d'America, in questo caso qui, molto centralizzata da Ritalan. Quindi, per farvela breve, dimenticatevi il Netrunner, che era la parte che a me piaceva di più, che si mette il casco, entra nel cyberspazio, entrando nel cyberspazio, si collega, non lo so, a un palazzo tecnologico di New York, boh, da Los Angeles. Questa cosa non è assolutamente più possibile, perché le reti sono sempre neurali, anche se ci sono i soliti caschetti per connettersi a quello nuovo, che è il Net, che poi non lo è più, e soltanto richiusi dentro una LAN cittadina, completamente gratuita, open source. Quindi, ora il Netrunner, quando si collega, come pirata informatica, a un sistema, deve essere per, ovviamente, hackerarlo, per buttare giù le difese, per installare una backdoor, e cose del genere, o un worm, deve essere nelle immediate vicinanze. Quindi, se sta attaccando un palazzo della Militech, un palazzo governativo, state sicuri che lui potrà essere a due o tre chilometri di distanza, al massimo. Quindi, è una cosa circoscritta in città, perché questa nuova, appunto, connessione a internet, è chiusa in linee LAN, appunto, chiuse in città. Quindi, entro un certo range. E questa è la cosa che, ovviamente, mi ha fatto un pochino più male, a livello di ambientazione, perché la cosa bella di Cyberpunk, era proprio il cyberspazio, era tipo un film come il tagliaerbe, laddove noi abbandoniamo il nostro corpo, che rimane lì in mezzo fritto, entriamo in questo mondo virtuale. C'è ancora un po' l'usanza e cose del genere, però hanno voluto, questa ambientazione qui, renderla un po' più credibile, e un po' collegata al mondo dove viviamo oggi. Perché, ragazzi, io non ve lo vorrei dire, va bene, aggiungiamoci cinque anni, sei anni al massimo, ma già viviamo nel Cyberpunk. Cioè, quello che cambia da un'ambientazione del genere, della Talsorian, DCD, anche Project Red, che ci sta lavorando, parte videoludica, cosa ci mancano? Gli innesti cibernetici, però, ni, perché l'hanno già fatti vedere, dei tipi di occhiali, che consentano, con reti neurali, connessi al cervello, di riacquistare, una parvenza di vista, a una persona completamente cieca, oppure, semplicemente, anche, una mano artificiale, che ti consente, di avere un pochino di abilità motoria, per persone, che hanno perso un arto, una mano, un braccio, quindi, ci stiamo andando, non manca, a parte le macchine volanti, e quelle cose lì, che anche qui, l'hanno tolte quasi del tutto, non manca tantissime ambientazioni del genere, e gli stessi cellulari, del gioco, rispetto a quelli che abbiamo oggi, hanno, la, di inviare messaggi, messaggi video, sia in 2D, che in 3D, con immagini olografiche, quindi, è possibile mandare, anche un'immagine, olografica di se stessi, e anche lì, ci sono già esperimenti del genere, quindi, questa ambientazione qui, di Cyberpunk, l'hanno fatta molto più, post apocalittica, immaginatevi una Night City, completamente distrutta, e poi perché si chiama Cyberpunk Red, ci hanno messo questo sottotitolo, perché ovviamente, con le esplosioni termonucleari, il cielo, è stato completamente avvorto, da fume, e da radiazioni, e per gli ultimi due anni, dopo lo scoppio della bomba, il cielo ha avuto una tinteggiatura, rossa, appunto, nucleare atomica, quindi la luce del sole, era sempre filtrata, da questa cappa rossa, completamente, che avvolgeva, di notte e di giorno, la città, in questo colorito, molto, molto foschia, molto appunto, sul colore rossa acceso, cosa che pian piano, si è andata dissolvendosi, però, dovete vedere Night City, non più come quella del vecchio gioco, la città di Blade Runner, per farvi un esempio, è una città post apocalittica, che piano piano, si sta riprendendo, e non è più in mano, alle corporazioni, assolutamente no, non è più la città, in mano alla polizia, vedevate passare questi furgoni, macchine volanti, che scendevano, col trauma team, tutti armati, ci sono ancora, ma è più una realtà, dove a comandare sono i nomad, a comandare sono le bande, a comandare sono le corporazioni, le piccole corporazioni ovviamente, e chi c'è soldi, non c'è mai stato di vario, peggiore a Night City, fra ricchi e poveri, rispetto alla vecchia ambientazione, dove bastavano pochi crediti, per andare in una clinica, ok, ho perso un art, o un battaglia, fammi un braccio cibernetico, qualcosa del genere, o una vista amplificata, ci sono ancora queste cose, ma molto più ridotte, rispetto a prima, e soprattutto, dai costi molto, molto più alti, quindi, da una parte è bello, da una parte è brutta, però come tutte le cose, finalmente, finalmente, io qui li do un voto in più, però lo dico alla fine, l'hanno voluto un po' aggiornare, perché questo gioco, ha bisogno un po' di svecchiarsi, secondo me, è inutile prendere, regolamenti vecchi, di 30 anni, farli in una nuova revisione, e riportarli sul tavolo, uguali, spiccicati, i creatori devono avere il coraggio, di cambiare qualcosa, di modificare qualcosa, lo hanno fatto, e secondo me, in parte, ci sono anche riusciti, comunque, vi faccio vedere un po', cosa c'è dentro, nella scatola, c'è tantissima roba, ma, unboxing, la scatola, che più di un gioco di ruolo, ricorda davvero, un gioco da tavolo, anche per le componenti, che ci sono dentro, per questo jumpstart kit, secondo me, hanno avuto una bellissima idea, e vedete, classica nella copertina, la città di Neon, Night City, con personaggi, un po' strani, variopinti, sensori neurali, vedete anche i tatuaggi elettronici, e soprattutto, visori e connessioni neurali, nella classica ambientazione, che un po', appunto, richiama Blade Runner, all'interno troviamo, i dadi ufficiali del gioco, che sono molto, molto bellini, e vediamo, come appunto, si chiama Cyberpunk Red, la cosa che più richiama, nei dadi dei vari tagli, sono appunto, la colorazione rossa, poi ci sono, degli standi, ve l'ho detto, sembra quasi una specie, di gioco da tavolo, di board game, perché ci sono dei personaggi, da utilizzare, come vi ho detto, personaggi pregenerati, che però potete, ovviamente, modificare, regolamento di gioco, facile e veloce, anche perché, ecco, il regolamento non è cambiato, il regolamento è lo stesso, di quello che abbiamo giocato, anni e anni fa, durante la nostra infanzia, quindi non è cambiato, per niente, e mi piacciono anche molto, il tipo di disegni, che ci sono dentro, le scritte, tipo queste specie, di scritte così, col marroncino, graffitti sul muro, frasi, importanti, di qualche personaggio, di ambientazione, e poi ci fanno vedere, i personaggi, che è possibile interpretare, lei ad esempio è una rocker, è uno dei personaggi, che si possono scegliere, e la scheda, per come viene organizzata, con tutte quante le caratteristiche, le abilità, e cose del genere, quindi, il manuale è molto semplice, poi su poche pagine, anche perché ve l'ho detto, è una demo, vi spiega come giocare, ma sui passi, di creazione del personaggio, c'è praticamente poco o niente, manuale d'ambientazione, questa invece è la parte più importante, vi dovete leggere, anche fra le righe, qualsiasi cosa, dalla prima pagina all'ultima, perché l'ambientazione è completamente differente ragazzi, e quindi cambia, rispetto a quella che abbiamo conosciuto in passato, quindi questo, ancora più del regolamento, ci vuole particolare attenzione, perché ci spiega, poi i disegni sono bellissimi, vedete l'età del rosso, il futuro oscuro, cioè, sembra nemmeno una Night City, sembra una città completamente distrutta, da un'ambientazione di Kenshiro, perché ve l'ho detto, il centro città rimane, tutto, oggi anche mentre giocato, distrutto, e completamente radiattivo, quindi soltanto i più pazzi ci si avventurerebbero, però magari qualcosa è rimasto in piedi, e qualcuno che ha bisogno di soldi, preferisce beccarsi delle radiazioni, rispetto che vivere nella povertà più assoluta, e vedete, la città bene o male richiama sempre lo stile di Braid Runner, e tutto quanto, ci sono ancora, ovviamente metropolitane volanti sopra la città, ci sono ancora auto volanti e cose del genere, ma ce n'è molto meno rispetto al passato, e ce l'hanno più appunto le forze dell'ordine, tra l'altro i disegni che ci sono, sono veramente stupendi, dirvi che Migar bando a morire sarebbe poco, e le regole del gioco principali sono sempre le stesse, quindi dovete, per superare una prova, ci sono vari livelli di difficoltà, che ne so, 10, 20, 30, 40, per quelli più difficili, voi dovete sempre tirare, il dado che si tira fra tutti quelli che ci sono, ma per fare una prova, è il dado da 10, dovete sempre tirare, caratteristica, più abilità, più un di 10, se tirate il 10, come vi ricordate lo potete ritirare, perché praticamente è il tiro critico, quando tirate in 1 invece dovete ritirare un di 10, e sottrarlo dal vostro risultato, comunque, se avete l'abilità, di livello 5, caratteristica di livello 6, quindi avete già un 11, tirate un 9, sul dado da 10, avete fatto 20, quindi se la prova, la difficoltà era da 10, a 20 siete riusciti, il regolamento ragazzi di Cyberpunk è sempre lo stesso, però come detto, guardate bellissimi disegni, come detto, l'ambientazione cambia veramente tanto, e non vi sto a dire, è cambiata un po', l'hanno modificata, secondo me l'hanno stravolta completamente, però l'hanno stravolta secondo me nel modo giusto, ecco, non mi sento di dire, a parte il cyberspazio, non mi sento di fargli una tirata d'orecchie, tutti quanti i personaggi che potete utilizzare, che alla fin fine abbiamo un Rocker, abbiamo un Nomad, abbiamo un Netrunner, abbiamo tutte le cose, e più ci sono sotto anche nemici, auto, vedete qua sotto, così da defustellare, ovviamente delle schede Easy Reference, delle specie di Sunti che vi aiutano, le schede dei personaggi, vedete questo è un Tech, poi abbiamo un Mover, un Nomad, una Rocker, un Fixer, che praticamente i Fixer si avvicinano molto come figure Netrunner, e poi l'ultimo appunto, il Netrunner, il Pirate Informatico, e in più ci hanno messo anche due Game Mat, cioè guardate qui, quindi sembra bellina sta scatola, perché a me che piacciono a morire giochi da tavolo, sembra veramente una via di mezzo, guardate qua, sembra una via di mezzo, fra un gioco da tavolo, e un gioco di ruolo, secondo me mettendoci queste cose dentro, hanno fatto una figata, e spero ce ne saranno di più nella versione finale, perché ci aiutano anche a capire, come siamo messi all'interno di, un edificio, o comunque una zona, e a raffigurarci sul campo di battaglia, sono molto 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 utili per davvero, e quindi come avete visto, il contenuto all'interno, è una demo, però è veramente intenso, c'è veramente tanta roba, qui non hanno badato a spese su questo Jumpstart Kit, a loro interessa che tu entri subito, nell'ottica dell'ambientazione, e poi ovviamente background, tutte le cose del personaggio, caratteristiche, e la scheda in sé per sé, che qui ovviamente è in versione semplificata, ragazzi, in conclusione, se devo dare un voto a Cyberpunk Red, il ricordo per l'ennesima volta, è essere un Jumpstart Kit, quindi quello che avete visto, è una demo, tra l'altro non ci sono nemmeno le regole, per crearsi il personaggio, non ci sono, quindi dovete prendere i personaggi, per i confezionati che ci sono dentro, e giocare con quelli lì, ovviamente personaggi che potete prendere, potete modificarli, invece di essere una donna può essere un uomo, invece di averci quell'arma ce n'è un'altra, potete cambiarle anche il background, perché la cosa più interessante di Cyberpunk, era appunto all'inizio col tiro di Dada, andarsi a scegliere un background, che se poi non ti piaceva, potevi ovviamente modificare, perché quale Dungeon Master, ti farebbe giocare un personaggio, che non sia in T2W, quindi quello non c'è assolutamente problema, ed è bello questo Jumpstart Kit, perché ci mette anche dentro, un Game Map, e tutta la roba che vedete, più i dadi personalizzati, quindi una figata assurda, non vedo l'ora di rivederlo in italiano, da parte di Elite Games, in Italia 2020, non vedo l'ora soprattutto, di vedere la versione finale, quando uscirà, quindi avete visto, un'ambientazione prettamente cambiata, avete visto un'ambientazione, che è una via di mezzo, fra il Cyberpunk e il post apocalittico, e se devo dare un voto, assolutamente a Cyberpunk Red, le do un 8 su 10, perché hanno avuto il coraggio, di tentare, di andare avanti, di modificare, di rivedere, di correggere, poi ovviamente, c'è anche la CD Projekt nel mezzo, quindi hanno portato avanti, un videogioco, e non vorrete mica, che il gioco da tavolo, che venderà un casino, grazie al gioco della CD Projekt, perché qui conosco, i miei polli, cos'è questo Cyberpunk, nessuno lo conosce, a parte noi vecchiacce, nessuno se lo caga, quando uscirà il gioco, e tutti lo finiranno, guarda caso, e diventeranno tutti esperti, i giocatori di ruolo, e tutto a comprarlo, ed è bene che sia così, però ovviamente, dovevano basare l'ambientazione, su quello che poi ha creato, anche CD Projekt Red, in tanti anni di sviluppo, videoludico, la cosa bella, è che molto spesso, nel manuale, si vede che è un'azione di marketing, ritroviamo il nome, di Johnny Silverhand, infatti si dice che, forse, sembra essere stato, Johnny Silverhand, a far esplodere la bomba atomica, dentro il palazzo della Rasaka, perché ve lo ricordate, il numero 1 al mondo, Kenny Reeves, uno dei miei attori preferiti, anche di mia moglie, quando compare, nel video che vi riprende da dentro, la discarica dove vi hanno buttato, vi riattiva più o meno, i sensori neurali, poi vi guarda e vi dice, alzati samurai, cioè la pelle d'oca, abbiamo una città da bruciare, perché Johnny Silverhand, che è scomparso dopo questa cosa, è il classico rivoluzionario, che la odia a Night City, odia questo tipo di mondo, la vorrebbe distruggere, però io non penso che un Johnny Silverhand, un rocker, arriverebbe mai, uno che fa musica per le persone, che fa concerti, non penso, arriverebbe mai a voler uccidere milioni di persone, solo perché, per fare esplodere una testata atomica, e far finire la quarta guerra, delle corporazioni, però è molto bello, infatti si richiama tante volte, sto Johnny Silverhand, perché si sa, nel gioco sarà Kenny Reeves, ed è bene che sia così, quindi 8 su 10, le avrei dato 10 su 10, giuro morissi, le ho basato di due punti, il fatto che cambia l'ambientazione, rivedile tutto quanto, però il vecchio Net, e il vecchio cyberspazio, sono convinto, mi mancheranno da morire, perché il personaggio che a me, piaceva interpretare, era il Netrunner, che c'è sempre, però è connesso a una specie di fan cittadina, quindi, vi ricordate al tempo, poteva succedere un'avventura, che voi eravate, come vi ho detto a Los Angeles, e il vostro amico a New York, con il suo portatile, o il suo datapad, si connetteva nel palazzo governativo, della Rasa, che provava magari a rubare dei dati, no? La polizia interveniva, e non riuscivano a trovarlo, perché non era in città, ecco, non lo può più fare assolutamente, però comunque, l'ambientazione mi piace, e si è evoluta, secondo me, nella maniera giusta e corretta, quindi, 8 su 10, meritatissimo, ricordo che se lo volete acquistare, giochi da tavolo, e giochi di ruolo, primo link in descrizione, sovraimpressione, da board game discount, ai migliori prezzi sul mercato, ci sono ovviamente prodotte, che ordinate, nel giro di 24 ore, arrivano subito, e soprattutto, potete pagare i giochi a rate, 3 comode rate, quindi, secondo me, è il negozio migliore, che possiate trovare, assolutamente, sul mercato, e soprattutto, in questo momento, che con le consegne, o con il fatto del coronavirus, potrebbero esserci anche dei rallentamenti, primo link in descrizione, più tutti quanti, i nostri social a seguire, fatemi sapere cosa ne pensate, e alla prossima!